Oggi andiamo sulla cabinovia e andiamo a Pila Wow, abbiamo già fatto tanta strada Durerà più o meno un quarto d'ora Quanto sarebbe? Abbastanza Pila ski in teschi Francese blu Poi altre materie basse Sono quelle che scegliano Non so quali sono quelle di colonna del mio Qui ci sono quelli Ragazzi siamo arrivati Usciamo Aspetta 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 Eccoci C'è quelli con i gonfiabili per andare su e percivolare E tu cosa vorresti fare? Il trampolino Il trampolino? Andiamo allora C'è che c'è Aspetta Grazie a tutti. Buon appetito. Ciao.